salve a tutti stai zitto salve a tutti io sono spina e qui stiamo su un aereo si ma comunque se non ti siedi muori quindi boh aspetta che non so che aspetta sono a 12 eh ma perchè qua giù in fondo io voglio stare in prima classe eh il biglietto della prima classe è dove si compra con i broblox quindi meglio di no tu dici? eh secondo me si ma almeno non potevamo stare seduti vicini no? oh senti comunque allora dove siamo dove siamo? allora siamo sulla modalità di roblox airplane siamo qui su questo magico aereo che ci sta portando in vacanza e qua c'è il capitano che ci sta parlando che ci sta dicendo che siamo un bot altissimi nel cielo che stiamo sorvolando il mare ma scusa ma stai affrontando la situazione dal punto di vista sbagliato cioè scusa siamo in viaggio siamo in viaggio qua possiamo andarcene in giro vabbè mi butto dal finestrino basta non puoi aprire il finestrino altrimenti fai cadere l'aereo comunque io direi ma non mi fai dire niente allora cosa mi inviti a fare poi parli solo tu è importante vieni ma è importante anche quello che è e noi ci mettiamo in prima classe punto ma non ci fa sedere guarda che moriamo guarda che c'era la turbolenza vieni qui brutta stupida comunque vedi che te lo dice che muori se non trovi la seggia dai vai veloce ok ora mi siedo qui vicino a te ah no devi andare nella tua ma veloce ma perché ma guarda che sei cubo scema perché se ti alzi muori comunque io volevo dire una cosa volevo dire che questa modalità quando l'abbiamo fatta sul mio canale abbiamo ottenuto il finale malvagio ok sì perché tu hai deciso di far schiattare l'aereo quindi magari oggi la nostra ricerca è di ottenere un altro finale visto che ce ne sono tipo sei ok sei esatto ok basta che sia diverso cioè non è che ci interessa basta che sia un altro finale no vabbè speriamo più che altro se c'è se sali un'altra volta tu che dici ah no ci penso io l'aereo però fai schiantare un'altra volta premo l'altra cosa premo che devo morire solo io vabbè cercherò di pilotarlo io va bene no perché se no muori solo tu non devi pilotarlo e non mangiare il sandwich mi raccomando lo so che non devo mangiare il sandwich oh uffa non lo equipaggiare proprio perché quel sandwich è ti prego fa che non sia il mio quello avvelenato anche se non sto mangiando ti prego ti prego ti prego che se non lo mangi non ti può avvelenare senti non so se tu ti ricordi ma l'altra volta che abbiamo giocato a una modalità dove c'era da mangiare io non avevo mangiato io sono stata avvelenata comunque nessuno sta mangiando Anna no 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 dai ma seriamente no ti prego oh no aiuto ti prego ah ma noi ti potevamo salvare sei solo allergica alla maionese ti prego ti prego trovo la mia valigia ti prego ok tranquilla cercala anche te cercala anche te fino a cura eccola eccola ho fatto va è qui curami ci sto provando non bisogna fare è qualcosa è qui oh se la smette di parlare la cameriera grazie Mirea mi ha salvato ehi c'ero anch'io ti ha rubato la valigia ma dai stavo cliccando come un forzennato vabbè non facciamo non ti preoccupare apprezzo tantissimo il gesto che mi ha salvato la vita yeah ah e si buon pomeriggio grazie per avermi io lo sapevo guarda io lo sentivo che il panino che mi avrebbe fatto strozzare sarebbe stato il mio eh comunque e cioè è per la maionese a me piace pure la maionese ma quanto pare su Roblox sono allergica che succede ah dobbiamo tecare un nap tecare un nap dobbiamo fare un pigiolino esatto adesso c'era il momento horror però no ti prego eh si ok pigioliamo qua pigioliamo vieni vieni adesso mi ricordo che dall'ala dove c'era l'ala che era qui eh l'ala allora aspetta spostiamoci sull'ala guarda da qui si vede bene compariva maestro bulzubu qui bulzubu bulzubu arriva dall'ala zoomiamo non si vede aspetta così si vede eccolo eh da qui si vede benissimo eh e allora eccolo maestro bulzubu bulzubu sta lì guarda oddio quanto è brutto sembrerebbe che abbiamo perso energia stiamo certo proprio quello è il problema non è che c'è un bulzubu sull'ala vero che ti guarda anche con la testa un po' storta oddio ma fa a destra e a sinistra con la testa ma smettila di guardarlo prima che ti salta addosso no ti prego eh fai tanto la strafottente con il mastro bulzubu voi vedere io quando ti salta collo eh ma non salta qualcosa vero beh dopo si tu non non sopravvivrai ok va bene ok e noi adesso serpenti serpenti noi serpenti no 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 me l'avevo diventata sei proprio stupida ma salta su una sedia e rimani ferma ce ne ho tre sotto la poltrona va bene l'importante è che non ti muovi ah aspetta che mi stavano pizzicando ok stai tranquilla non succede niente sono simpatici il bello è che tu stavi lì a fare tutta l'arrogante sono bastate quattro bici per farti passare la che schermo dai zitta c'è solo uno che ti vuole pizzicare vedi vedi io ho trovato il bagno il bagno aperto l'ho trovato io l'ho trovato io apri 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 ok ci sono nonna ma l'ho trovato io si vabbè porca miseria ce l'avevo attaccato al polpaccio quel serpenti non è posto preferisco stare con i piedi ma scusa ma siamo rimasti solo noi stai scherzando no cioè siamo rimasti in cinque ahah e uno è ancora là fuori no siamo rimasti in quattro e in realtà nella tab segna che siamo in cinque ma ora muore perché non è entrato in tempo in bagno quindi è stato sbranato dai sei ecco infatti oh no cioè siamo solo in quattro com'è possibile la vedo male la vedo molto male siamo io ok allora qui dobbiamo discutere di cosa è successo Anna è il Mirea Anna ok quindi ci sono due anni su questo volo Anna Lion eh Mirea è stato spaventoso cosa c'è sei stupida ma non è di meno è che continuate a dire Anna con il tuo palloncino lì rosa ok è bellissimo stiamo andando avanti però stiamo andando avanti allora io ma non mi ricordo cosa c'era ora mi ricordo che c'era un altro pezzo dove si poteva morire però certo ovviamente allora qui succedeva che ci accorgevamo che le hostess non stavano stando ah sì è vero e quindi dovevamo riattivare no no non dobbiamo fare niente dobbiamo aspettare qua il volo è tranquillo i snakes se ne sono andati io non ho capito come se ne sono andati ne sono entrati nel cesso in un altro dei cessi sono andati nello scarico ok sull'ala non c'è più il mostriciattolo e invece che cosa c'è qua davanti niente niente ah c'è il capitano che parla che dice vorrei la vostra attenzione abbiamo una buona notizia e una cattiva notizia ok ci sono un paio di forbici ricordiamoci che qui ci sono un paio di forbici la buona notizia è che l'energia è tornata bravissima e questo ce ne sono accorti così che sei british Anna smettila la cattiva notizia la canzone è ansiogena cosa sta succedendo oh no è che stiamo perdendo ossigeno 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 Anna devi prendere le maschere veloce eh eh sì appena cade non stare in prima classe non stare in prima classe ma io non stare in prima classe l'ho presa ok l'hai presa io pure ok sei sicura che l'hai presa fatti vedere certo ce l'ho la vedi ok fantastico fantastico oh no la signorina è rimasta senza non mi dire sì e si è seduta pure no 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 va che brutta scena Anna si è sacrificata Anna è morta no e adesso e adesso siamo in tre c'è su un aereo che conta una roba come almeno 150 posti siamo in tre dai ma è la fine cioè al prossimo insidia c'è una possibilità su tre che muoia tu no oh no oh no che succede adesso c'è il mostro stai attenta eh ti prego ti prego ti prego ti prego cerchiamo di ricordare perché noi l'abbiamo già giocata quindi possiamo sfruttare la conoscenza come cosa allora oh my god cos'è 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 questo cos'è 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 visto una bomba ah c'ho la bomba addosso ok meglio a me che a te le forbici le forbici sono qua dietro le forbici le forbici allora mi devi tagliare un filo però è meglio se me lo taglia Mirea tu rimani lontana così se esplodiamo capito ok ok rimarrò ma poi rimarrò da sola le forbici le forbici le forbici le forbici le forbici aspetta eh rimani ok Mirea ha preso le forbici ok ora deve scegliere che filo tagliare però eh tu rimani lontana eh non ti fare esplodere ok allora in teoria dovrebbe tagliare guarderà da lontano qui Mirea Mirea sta tagliando ma che ne so rosso 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 taglia il rosso oh oh ehm ok non è esplodo ma porca miseria no tu sei viva tu sei viva si però no posso fare continua però al prezzo vantaggioso di 30 Broblux porca miseria quindi sono qui dietro eccomi oh grazie a Dio che schifo porca miseria cioè mamma mia ok va bene va bene comunque questa parte della bomba io non l'ho capita perché anche l'altra volta quello che ce l'aveva esploso eh vero probabilmente perché non era quello il filo giusto ma non lo so l'hai detto tu hai detto oh taglierei il rosso ah sì sì sono convinta io non ne capisco un cavolo di bombe ma va ok però allora dobbiamo trovare di qua di qua di qua dobbiamo cercare le osses che sono qui e sono tutte svenute ti ricordi sì 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 ok corri 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 e poi c'era la parte dove c'era il capitano mi sembra eh eccoli ok oh no la musica di nuovo inquietante la musica trippettosa di nuovo sono morti no sono svenuti dobbiamo avvertire il capitano e allora corriamo dal capitano corri corri dal capitano presto presto però la porta del capitano è bloccata era bloccata sì quindi dovremmo fare avanti e indietro in questo aereo porca miseria ci capitanoiamo da soli per favore aprite capitano è bloccata ok oh oh cos'è stato che succede che succede qualcosa sta succedendo dentro ah sì adesso compariva il mostraccio quindi stiamo pronti a scappare questa porta serve un codice il codice il codice se lo troviamo possiamo aprirla un codice è da quest'altra parte qua giù sei sicura corri sì 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 me lo ricordo è appeso su un muro sì mamma mia i codici capitani aspetta dove finita Mireia è vicino alla porta del capitano eccolo un aereo intero siamo rimasti in tre siamo rimasti brava Anna corri qual è il codice non serve che è lontano ok ora in teoria dovrebbe aprirsi la porta e dentro ci dovrebbe ser 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 il capitano capitano apri ah ma mia fa brutto che è però ok è il mostrazzo la creatura vediamo che cosa vuole adesso eh bulzubu cosa vuoi e adesso li farà tu ah sì è vero pagherai pagherai per quello che hai fatto non abbiamo fatto niente adesso dobbiamo premere i pulsanti della stanza del capitano è vero e poi c'era la parte dove ci dicevano di atterrare però questa cosa non l'ho capita perché lui dice tu pensi che sei qui per caso ma non è così ti ho portato io qui eh per schiantare tutti voi eh vabbè gli altri sono già molti è vero perché dobbiamo fare tipo il rito di busubu eh io sono bravo non è possibile dice lui mamma mia sono proprio forte aspetta che adesso gli do una lezione lo prendo a pugno sul naso lo è e ora e ora è ora di morire dai va via dai busubu levati i pulsanti noi dobbiamo pigiare pigiare ma non è che dobbiamo andare da ci vediamo nell'altra tomba guarda come fa la puzza rossa per simboleggiare che è cattivo aspetta eh vai via busubu certo che la stiamo prendendo con troppo calma questa cosa adesso bisognava premere pigiamo pigiamo aspetta non è ancora il momento sta ancora dicendo il capitano è incosciente capitano capitano lo sto picchiando capitano niente non si segna e allora che cosa bisognava premere l'aereo sta cadendo dobbiamo cosa facciamo dobbiamo pigiare pigiare no ancora non è il momento e vabbè però c'è quest'ora ci saremmo già schiattati dobbiamo trovare l'autopilota l'autopilota butto ora si deve premere aspetta ok vai vai aspetta aspetta che stai parlando ancora tu per tre quarti d'ora un attimo e vabbè ci voleva il suggerimento non serviva oh vai vai premi premi pigia pigia vai 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 pigia pigia oh oh è che siamo solo in tre a pigiare non è tanto pigia e poi l'aereo si muove è difficile pigiare quando l'aereo oh l'ho trovato di nuovo brava brava ok ok c'è andata bene guarda che c'erano un sacco di tasti che non erano ancora premuti però mamma mia con me ce la facevamo comunque col tempo però meglio così ora oh ce l'abbiamo fatta che bello abbiamo salvato il plane e adesso c'era la parte dove io ho fatto il malvagio si esatto eh quindi in teoria adesso dovrebbe essere tutto calmo adesso ci chiama la torre di controllo no? no non è vero allora io ho paura che se Mirea dovesse essere presa lei non sa che noi vogliamo l'altro finale probabile e come facciamo aspetta vediamo se viene presa perché non è detto allora dobbiamo trovare il telefono di emergenza ok che era sicuramente dall'altra parte ovviamente perché qui dobbiamo farci l'aereo avanti e indietro 40 volte eh oh c'è solo questo vuoi andare fuori scusa giusto e poi con l'altro il finale finale perché noi l'altra volta quando l'abbiamo fatto per me non siamo arrivati fino alla fine fine perché dopo c'era altro davvero? è certo perché se io non lo faccio schiantare è vero perché tu l'hai fatto schiantare però forse c'era altro un buon finale tipo dove vai a finire atterrato sano e salvo abbiamo bisogno di aiuto il nostro capitano è svenuto per fortuna non vi dovete preoccupare non ti preoccupare ti porteremo a casa in neanche gli è in neanche gli è sarete al sicuro sì siamo tutti ok tutti siamo in tre però non è proprio tutto ok in tre sono molto ok molto molto e l'autopiloto è qui adesso è il momento brutto quindi facciamo così giusto siccome il capitano è il primo tu non andare prima vado io prima ma scusa forse se vado io no e non scelgo di schiantarci forse non muoio muori quanti bro blues sì certo che muori eh allora magari meglio non tentare insomma perché magari poi non mi fa tornare capito lo faccio io tollo tu vai va bene allora mi siedo io andiamo oppure potremmo affidarci a Mireia che sta correndo un botto eh infatti sta proprio correndo potrebbe arrivare prima lei vediamo eh no 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 sicuramente no arrivo prima io allora vai di nuovo ok porca miseria stavolta devo premere l'altro eh spero che la parte cattiva di me non prenda il sopravvento ti prego non prendere il sopravvento confidiamo in te capitano Lion eh sì allora tutti quanti non vi preoccupate neanche un po' eh adesso vi massacro non hai per niente precedenti tu no no non hai già fatto ah eh adesso oddio la puzza rossa vabbè resisto 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 devi resistere non ti preoccupare è tornato adesso ci penso io ci penso mamma mia ti prego non farlo schiantare no lo faccio schiantare puoi fare la risata cattiva per favore ok voi umani siete divertenti il vostro destino è stato già scritto ma ok la Ionio farà schiantare la Ionio eh io no invece no stavolta al cacchio sono onesto no non crasherò questo plane mai mai lo scrasherò basta non ti permetterò di regnare nel mondo dell'underworld ho premuto no sono stato bravo ok non lo faccio salvo questo aereo ci sono due persone dentro tre compreso il capitano voi umani siete così deboli e beh adesso mi stacca la testa guarda no ti prego cosa vuoi che succeda questa non è l'ultima volta che ci vediamo forse non mi stacca la testa potevo farlo io dai sono vivo potevo essere io l'eroina e non me l'hai permesso oh non lo sapevamo metti che poi morivi se n'è andato si e io adesso e ma ancora continuano ad esserci i musichini aspettate ha detto che non sarebbe stata l'ultima volta che l'avremmo visto infatti la musica tamburellante c'è ancora cosa significa secondo me questo significa che ci vediamo al capitolo 2 chi se ne frega Ale ma si torniamo a casa torniamo a casa dai sto per vomitare sto per vomitare ebbè fatto oh finale buono mi sa eh finale buono eh che musica eroica mamma mia victory eh l'altra volta quando abbiamo finito era victory col punto interrogativo invece adesso è victory quello normale quindi è andata bene ah voglia ci siamo salvati e sei stato un eroe molto eroe invece che un mostro sì però sai cosa c'è vieni qua guarda un po' ah ah dove sei sono qua giù vieni qui vieni qui vieni qui ma cacchio sei ma come vieni qui vieni qui guarda un po' eh lo so che c'è airplane 2 c'è il 2 quindi dobbiamo scoprire che cosa succederà nell'altro aereo quindi ciao